La Sicilia, secondo me, è un set aperto e vuole dimostrarlo con questa iniziativa fortemente voluta dal mio governo e dall'assessore Elvira Mata. Ascolteremo, creeremo questo momento di dibattito e di confronto, non sottolineando poco il fatto che la Sicilia è pronta anche ad aiutare la formazione dei produttori cinematografici e degli attori. Abbiamo un clima, abbiamo dei set che da soli, come quello di oggi, sono già autonomi nel presentarsi a inserimenti cinematografici e realizzazione di film. Abbiamo investito, abbiamo investito più di 20 milioni su questo settore, ne investiremo in questa finanziaria recente 5 milioni, che stimi dall'assessore Amata, proprio per realizzare un progetto, quello che avevo già detto in campagna elettorale, la Sicilia deve diventare non soltanto polo attrattivo per le produzioni cinematografiche, anche con eventuali incentivi, incentivi anche per la formazione, ma effettivamente la storia parla da sé, Magari, altre grandi produzioni, il commissario Montalbano, sono arrivate autonomamente e spontaneamente, allora perché non stimolare invece ulteriori interessi attraverso l'iniziativa politica che stiamo assumendo.